Musica Bello a tutti ragazzi dal vostro Jap 881 Ben ritornati sul mio canale e su AgiNator ho un altro quiz da AgiNator questi quiz mi stanno andando fuori di test ragazzi veramente giochiamo raga dai giochiamo AgiNator aspetta no detto verso una giro reale no si indossabili maschili no non fa parte di un cartone si si no non è cattivo no non fa parte di un suo eroe si fa parte di un libro no no non è un mago si ho bacio con una spada si alla barba non fa donne come asessuali non mi ricordo ma ci sono le lesbiche non lo so non lo so non lo so John Snow hanno scoperto raga madonna si e niente ragazzi hanno scoperto giochiamo un'altra volta no non è reale probabilmente no si è femmina si vabbè no non è niente in Inghilterra nel trono di spade vabbè si si chiedono a scrivere non è niente in Inghilterra Daenerys Targaryen vabbè raga ha scoperto i miei due personaggi preferiti del trono di spade in tre minuti e trenta secondi io non ho la parola io già ve l'avevo detto che la mia casata preferita era la casata del drago dei Targaryen e il mio personaggio loro preferito è Rhaegar il fratello di Daenerys e il padre di Jon ma comunque loro due sono quelli che mi piacciono di più nella serie di V bella raga dal vostro Giapp 881 Bari al Comand e buona giornata bella la mia casata Grazie per la visione!